Due milioni di casi in Italia, oltre il 3% della popolazione colpita, 150.000 nella sola campagna. Ed è a Napoli che nasce la scuola, così chiamata, di questa malattia, l'apsoriasi. L'associazione No Profit, presentata al Centro Congressi dell'Università Federico II, si propone di creare un linguaggio comune e condiviso dalle diverse figure professionali coinvolte nel trattamento dell'apsoriasi. Non solo il dermatologo, che è il primo ad accertare la patologia, ma anche medico generale, pediatra, dermatologo ed endocrinologo. Ascoltiamo Nicola Balato, professore associato della Clinica Dermatologica dell'Università Federico II di Napoli, tra i soci fondatori della scuola. Gli obiettivi della scuola sono questi. Uno, programma educazionale. Educazionale perché? Perché l'apsoriasi oggi è una patologia che viene rivisitata a 360 gradi. Non è più considerata solo un'infiammazione della pelle cronica, ma è una patologia che può colpire anche altri organi ed apparati. Quindi è una patologia multi-organo, quindi l'importanza della scuola di poter creare delle sinergie con medici di medicina generale, con farmacisti, con altri specialisti. L'apsoriasi per anni è stato un campo di studio tutto da esplorare. La ricerca, da anni impegnata nel settore, sta pian piano individuando cause e possibili rimedi alle condizioni di salute di chi è colpito da quella che è definita anche malattia dei sani. Ma che proprio dei sani non è, tanto è vero che i pazienti con psoriasi, secondo gli ultimi dati disponibili, presentano un maggior rischio di incorrere in accidenti cardiovascolari. Ascoltiamo Cataldo Patruno, docente presso la scuola di specializzazione in dermatologia della Federico II. La psoriasi si associa a delle comorbidità, cioè numerose patologie che apparentemente non sono in correlazione con la malattia, sono più frequenti nei pazienti psoriasici, oltre al già detto rischio cardiovascolare, ad esempio l'artropatia, o altre come la malattia di Crohn e così via. Quindi è assolutamente importante che il dermatologo diventi un dermointernista, cioè capace di avere la visione totale del paziente in collaborazione ovviamente con il medico di medicina generale, il pediatra di base e altri specialisti.